Si è stato nominato! Sì! Abbiamo il giocatore Pino! E' il caio, no? Adesso Ciccio, voglio mostrarne come ti passevi! Ma che contento che sei! Ma no, se devi fare... Ciccio il peccolo che hai fatto! Ma che sei le batterie? Le batterie! Le batterie, le peccolo! Le batterie, le peccolo! Siete che le peccolo senza butto il culo? No, non capisci mai se ti dici peccolo! Aspetta, sei troppo emozionato! Mi pare che piaci più questo della peccora! Si, si! Oh, Cristian, dà con una mano! Mi piaci più questo della peccora! Adesso qua che voleva tutta la sfilata dei mostri! Ciccio, tutti i doni! Che voglia... Inserisci... Eh, fate bene! Mi sono io, cura! Aspetta! 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 Luca! Mi ha già dato il cuore! C'ho un catamide qua! C'ho un catamide qua! Vabbè, fa mettere le batterie qua! Dei! C'ho un catamide qua! Stremobili! Fa con un cortel! Fa con un cortel! Fa con un cortel! Ma se che Dario non voglio usartelo qua! Si, posso farcinarlo! Mi piace il salto della peccora! Che... Pu 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 pu! Alla qua! Alla cattamide qua! Dario, la cattamide! Eeeh! Eeeeeh! Eeeh! 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 Guarda che sai stai... Eeeh! Eeeh! Cioè, questo è gli analizzatori! Chi era? Eeeh! E' duro, cioè! Eeeh! E' parlare di quello o cosa? E' trovare! E' trovare! E' trovare! E' trovare! Mettiti il putanissimo! Tutte quattro, eh? Ma che putone non ci si da nissimo! Mangi, a tattangelo! G! 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 Ma se avete pecchetti rosi o quattro? Ma se avete pecchetti rosi o quattro? Eeeh! 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 Bene, mamma! Tog 님! Col pink! detectAlte al tattino! Uhhh! Uhhh! Dosent���夜! Eeeh! Cose del primo rumus! Vado fumar! Neste! Su, vado! Scusa perché domani ti sale in internet! Ai available! E,a, Orlando lintartço! iah! Teg duranteilch Ottawa! Riktir inequalities, ehm Meter!" Guarda, guarda какая! Guarda... T tiempo fine? Veda, mettila per terra, come ti ha fatto l'armatta? Ogni minuto c'ho l'app, vanzo mille euro, le tia, 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 le tia! Batti le man, batti le man! E' batti le litte! Su chi c'è in coglio? Ah c'è me di cigare! A presto. Ah, questo non mi potrà dar, ciao Ah, che fece, John Ah, che fece, John No, come se sporca, eh L'hanno usato in meccanica